Si sono introdotti nel deposito di Terra Nuova Bracciolini, hanno fatto l'autoscontro con gli autobus parcheggiati ed infine hanno deciso di immortalare tutto con un cellulare. Per questo sono finiti nei guai sette ragazzi, tutti valdarnesi e studenti dei primi anni delle superiori. L'episodio risale allo scorso aprile, quando i giovanissimi sono entrati abusivamente nel deposito valdarnese dove erano parcheggiati i mezzi di trasporto di una società che svolge il servizio locale. I ragazzi prima li hanno messi in moto e poi li hanno fatti sbattere contro gli altri veicoli parcheggiati provocando danni significativi. I giovanissimi sono stati individuati a seguito di accurate indagini condotte dai militari dell'arma che hanno anche acquisito il filmato realizzato dai ragazzi. Fondamentale la collaborazione con la scuola che si è fatta da tramite tra i militari e le famiglie. Il gruppo di adolescenti è stato denunciato dai carabinieri della stazione di Terra Nuova Bracciolini alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minori di Firenze per danneggiamento in concorso. Le famiglie si sono comunque mostrate disponibili a risarcire i danni provocati dai figli.